Con Matteo Roggi parliamo di Mattia Perin, tu sei il procuratore del portiere rivelazione di questa stagione, le copertine sono tutte per lui, soprattutto dopo la grande prestazione di Firenze. Intanto ti chiedo come ti sei interessato a lui, quando l'hai scoperto? Senti, Mattia in realtà è stato scoperto da Simone Mazzoncini, che era responsabile del settore giovanile della Pistoiese. L'ho appreso da una squadra di Latina quando aveva 14 anni e una sera per puro caso ho incontrato Matteo Mareggini, che giocava alla Pistoiese, l'ho trovato in un ristorante, abbiamo fatto dei chiacchiere e mi ha detto devi venire a vedere, abbiamo un ragazzino di 14 anni che si allena sempre con noi in prima squadra, è una personalità incredibile. Quindi andai a vederlo, il ragazzo era molto bravo, quello che saltava all'occhio era veramente la grande personalità. Poi, vista la giovanissima età, abbiamo seguito un po' la sua crescita, ma ovviamente senza avvicinarsi mai al ragazzo. Poi ho avuto la possibilità di entrare in contatto con i genitori l'anno in cui lui è passato al Genova. Lui andò in prova nell'aprile del 2006, non del 2007, stagione 2006-2007 e si allenò mezz'ora, perché si allenò con Spinelli mezz'ora e lo videro e dissero fermo, vai a cambiarti, per noi basta questo. Poi fu fatto il passaggio tra Pistoiese e Genova e lui iniziò a giocare, fece il primo anno negli allievi nazionali con Torrente e il preparatore dei portieri Gagliardi, fece molto bene e l'anno successivo passò subito alla primavera con Chiappino e allenatore dei portieri De Prat. L'anno successivo fece ancora un anno di primavera con Juric, sempre De Prat come allenatore dei portieri, ma lui era spessissimo in prima squadra. E' l'anno poi che vinsero il campionato italiano in finale contro l'Empoli. E poi formalizziamo il nostro rapporto dopo che Mattia stipulò il primo contratto da professionista. e poi è passato al Padova, ha fatto questa grande stagione perché partì dietro a Pellizzoli con grande serenità, piano piano si è conquistato il posto e ha finito la stagione. L'anno della vittoria del campionato della primavera fece il suo esordio in A con Genova, nell'ultima partita di campionato Genova-Cesena. Chi è stato particolarmente importante secondo te nella sua crescita? Secondo me nella sua crescita è stato particolarmente importante sicuramente la famiglia, perché è una famiglia dai sanissimi principi, dei lavoratori, gente con i piedi in terra, che gli hanno dato una grande educazione, gente per bene. E poi mi sento di dire sicuramente Simone Mazzoncini, gli allenatori che ha avuto tutti, e in particolar modo Michele Sbravati, che è il responsabile del settore giovanile del Genova, che lo ha tenuto sotto di sé, insieme anche a Mario Donatelli, che si occupava più della primavera, perché Mattia ha un carattere esuberante, quindi aveva bisogno di gente vicina. Perin adesso è il terzo portiere dell'Under 21. Come mai tutto questo, come mai si trova alle spalle di Bardi e di Colombi, nonostante sia così forte? Perché probabilmente vedono meglio gli altri due ragazzi. Stamani in un notissimo quotidiano sportivo gli è stata fatta la stessa domanda da una tua collega, e Mattia ha risposto, ha detto io per l'azzurro faccio anche il quinto. È a disposizione, ci sono degli allenatori e dei tecnici che fanno delle scelte e Mattia è a completa disposizione. Tu che lo conosci bene, a chi ti senti di paragonarlo? Ma a nessuno, a nessuno. Ha detto bene Buffon, ha detto non è inutile stare a fare dei paragoni, ogni portiere ha la sua storia e Mattia ha le sue qualità. Allora possiamo dire però una cosa, come taglio di capelli e come postura in campo ricorda un po' Ricchi Albertosi. Come personalità sicuramente Buffon. Poi quello che è l'aspetto tecnico è talmente giovane che ha dei margini di miglioramento pazzeschi, quindi non sappiamo neanche dove può arrivare e a chi mai potrà assomigliare. Perin, come ricordavi prima, è di proprietà del Genova, cosa succederà a fine stagione? A fine stagione Mattia rientra a Genova, fine prestito e poi col Genova valuteremo insieme se rimanere a Genova, che è un desiderio di Mattia, a lui piacerebbe fare un campionato a Genova o se lui continua a fare così bene, insomma non escludo che venga ceduto a una big. Questi ultimissimi giorni quante richieste ti sono arrivate, quante squadre si sono fatte vive con te? Nessuna, nessuna, c'è un sacco di movimento sui giornali, si è parlato di Napoli, si è parlato di... Milan anche. ...del Milan, che sembra seguirlo da tempo, ma di ufficiale una telefonata a me non è mai arrivata. Io non so se hanno parlato direttamente con il Genova, io ho avuto modo di incontrare i dirigenti pochi giorni fa, abbiamo parlato dell'argomento ma hanno detto che non c'è niente per il momento, ma credo che l'ultimo problema di Mattia anche quando parlo con lui sia quello del futuro. Mattia è concentrato, vuole fare una bella salvezza col Pescare, ce la possono fare e poi a fine stagione con grande serenità in base anche a quello che sarà l'andamento del campionato verranno fatte le valutazioni di sé e come cambiare squadra. Comunque è pronto per una big, secondo te? Secondo me lui è pronto, è pronto. Mattia è pronto perché ha una personalità incredibile, è pronto, non ha paura di niente. C'è un piccolo aneddoto, ho parlato con lui nella partita contro il Catania, su un passaggio indietro. Mattia, che peraltro è fortissimo con i piedi, avete avuto modo di vederlo domenico alla Fiorentina, ha sbagliato uno stop, la palla è andata in calcio d'angolo, è stato fischiato dal pubblico di Pescara che è assolutamente esigente e mette grande pressione. La palla dopo su Barrientos Mattia ha fatto finta di rinviare e gli ha fatto una sterzata. A vent'anni la dice lunga su quella che è la personalità di Mattia. Se tu dovessi scommettere tra qualche anno sei pronto a vederlo con la maglia azzurra da titolare? Dipende da lui, le qualità ce le ha tutte. C'ha le qualità tecniche, ha una famiglia dietro che lo supporta e ha voglia di arrivare. È un ragazzo estremamente umile, conosce i propri limiti e non è mai contento della prestazione. Si mette sempre in discussione. Quindi questi credo siano i presupposti giusti per poter arrivare a grandi livelli. Poi dipende da lui, un pizzico di fortuna, dai tecnici. Ma se dovessi scommettere, insomma, scommetterei tranquillamente. Fra qualche anno sarà il titolare nazionale. Tu sei molto attento anche ai portieri giovani, non solo Perin nella tua scuderia, anche Lezzerini, giovane portiere della Fiorentina, della primavera viola, molto considerato. Luca Lezzerini è un grandissimo portiere. Potrà accalcare quelle che sono sicuramente le orme di Mattia. O magari un giorno Mattia potrà essere quello che adesso è Buffon. Mattia potrà essere per Lezzerini quello che adesso è Buffon per Mattia. Una sorta di punto di riferimento. Sono fisicamente differenti. Lezzerini è un ragazzone altissimo, un fisico pazzesco. E' molto giovane, si allena spesso in prima squadra, è fisso in nazionale. E' un ragazzo che di fatto fa ormai da qualche anno la vita d'assoluto professionista. Perché va in ritiro con la prima squadra, gioca con la primavera e gioca alle nazionali. E' sempre in giro per il mondo. Gioca una quantità di partite pazzesche. E' veramente molto bravo. E' un altro portiere che mi sento di dire con tranquillità che vestirà la maglia della nazionale. Forse il destino del gruppo Roggio è di avere degli ottimi portieri. Anche mio padre negli anni Ottanta, quando c'era Galli, Pazzagli, tutti i portieri di grande livello. Ti sei sbilanciato molto tra qualche anno, poi verificheremo se effettivamente si sono avverate le tue previsioni. Sarà mia premura parlare con i ragazzi e far sì che le mie previsioni non vengano disattese. Altrimenti ci sarà da discutere con loro. Ma sono sicuro che arriveranno. Hanno le qualità e la voglia di arrivare tutte e due.